ok, quindi dicevamo, lui facciava così, questo lavoro cioè, abbassava il polso sinistra, uguale se volevo utilizzare anche le ditta facciava questo lavoro qua quindi, abbassava chiudeva, non è due volte bello è slegato quindi se uno lo porta velocità più decente aia la cosa curiosa è che stai facendo cioè, stai sfruttando a gratis la parola che ha c'è un colpo a gratis la l'editta quindi con la timpanistica francese dritta, al posto di essere così la timpanistica francese french timpani facciamo la stessa cosa dritto e chiudeva dritto chiudeva quindi il concetto è sempre dritta, non così col pollice in alto è sempre economia è il migliore economo del pianeta cioè non ce n'è per nessuno è il migliore economo del pianeta